Riapre l'area giochi della villetta dopo la chiusura dei mesi scorsi legata all'emergenza. A Cade a Prato la Peligna questa mattina è stata riaperta l'area giochi della villetta comunale, non utilizzata e chiusa nei mesi scorsi a causa delle disposizioni governative per contrastare l'emergenza Covid-19. L'area torna così a disposizione della comunità, soprattutto dei più piccoli, per la gioia ovviamente anche delle famiglie. In questa fase, come è stabilito dei protocolli sulla sicurezza e sulla prevenzione, restano necessarie le norme sul distanziamento tra i bambini e l'utilizzo della mascherina, raccomandano dal comune. L'area in questione sarà aperta dalle 9 alle 19 per dar modo al gestore di poter eseguire quotidianamente la pulizia degli spazi, perché in questi momenti bisogna stare attenti a tutto. L'annuncio della riapertura dell'area giochi sarà data questa mattina dall'assessore alla montagna al verde pubblico, Fabiana Donadei.